e salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale io sono mizan ed eccoci con road 46 96 scusate mancano 46 chilometri al confine stiamo per uscire da questa l'azione e speriamo che tutto vada per il verso giusto siamo giunti in una strada dove abbiamo visto che ci sono delle votazioni li stiamo rivedendo in questo momento dove c'è tra il inc che prende il presumo dovrà esibirsi dovrà fare il suo comizio e penso ci sia anche flanders per quale per la quale noi voteremo quindi raggiungiamo il posto e vediamo un po cosa si può fare tra l'altro la nostra salute sta diminuendo vertiginosamente qua al momento non possiamo ancora fare nulla allora qui ci sono i sostenitori della fla della flores ok we all know the plan rai let's do this guys is it me we back to the list in to us ma in realtà non mi sto spiegando solo con voi ragazzi io tifo per la flores ma ammazza come siete cattivi che poi perché la flores si è nascosti qui dietro c'è boh c'è guardate per tre di quanta gente c'è si me ne vado me ne vado ah sonia questa la cercavano i due motociclisti hai incontrato sonia salve ok sono uno sfigato che cercavi però facciamo sì vabbè ragazzi indipendentemente dal lavoro che ci farà fare abbiamo bisogno comunque di soldi quindi voglio essere pagato ok ok film this is just a little puff piece on the pump cuddle muffet nothing to it we have a second if you want to like talk to me but get my take on something important ho una domanda vediamo che domande possiamo fare cosa sei sui puliziotti nella ronda 96 qualche consiglio per provarsene un viaggio fa delle storie sui ragazzi che attraversano potrebbe essere interessante il monte nazionale dovrebbe fare un giornalismo più obiettivo i ragazzi parlando se la flores vincerà vai ok let's go we'll start with the intro oh this is good with the billboard behind me how do I look wait I know amazing ma devo riprenderti col cartellone guarda il front ma se io mi giro verso la flores ok no non si può fare una nuova una dica una dica di nuovo io mi giro mi fai a me mi fai e Sto facendo del mio meglio Posso fare di meglio per soldi Forse Sodia ragazzi Ci sbloccherà Il perk riguardante La possibilità di poter Imporre le nostre scelte A quelli che incontriamo Quindi forse è meglio Tenercela buona Quindi Vai Cos'hai? Stella fortuna Ok La tua fortuna Dà 15% in più Alla probabilità di tutti I lanci dei dadi Che roba è? Ok L'apprezzo Questa è manipolazione No ragazzi Io farò il contrario Sappio Buongiorno 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 Come la nostra nazione Come la nostra presidenza Parlare del nostro presidenza Lasciamciare Per mostrare il nostro apprezzamento E' BOOM E' BOOM Gioisci C'è il chat C'è il chat Aia Ma sto preoccupato? No, ho anche letto la mia figlia di mia figlia embarkare su una tripartita. Presidente Tyrak mantiene la nostra natura sicura. Prima, Presidente Tyrak! Boh! Dai ragazzi, è parecamente cattivo! Stopta questo, figlio! Tyrak è un liaro! Le figlie sono in presenza ogni giorno! Tyrak è un dittatore fascista! Votate per Flores! Salve il nostro paese! E stoppiamo! Ora! Rai! Quindi vedi, polizia corrotta, quindi erano i sostenitori della Flores. Guardate, guardate cosa fa il vostro... il vostro dittatore. Più tardi. Eh, va bene. Mi dispiace davvero, facciamo la parte di chi si penta. Ok. Possiamo fare un altro autostop. Qui che c'è? Bus. Taxi. Allora, intanto per cominciare, distruggiamo questo coso qui. Questo che cos'è? Vai via e cammina lungo la strada. Taxi oppure bus. 33 dollari. Direi di fare un altro autostop. E noi ragazzi, ci fermiamo qui per questo episodio. E ci vediamo direttamente nel prossimo video con il mezzo che ci porterà alla prossima destinazione. Mi raccomando, come sempre, spoliciate, commentate e iscrivetevi al canale. Un saluto da Bizarra Caretta. Ciao, guagliore.